Sono Emanuela Rey ed interpreto la principessa Isha nel musical Aladin il musical geniale al teatro Brancaccio di Roma. Ogni giorno prima dello spettacolo il rituale è sempre lo stesso. Appena arrivo vado a salutare tutti quanti siamo un bellissimo gruppo e con il tempo sono diventati la mia seconda famiglia è un piacere lavorare con loro e passare dei momenti di pausa ridendo e scherzando tutti quanti insieme. Poi dopo si va in camerino e si inizia la preparazione parto subito con il trucco che è quello che mi occupa più tempo. Aiscia mi piace molto come principessa è diversa rispetto a tutte le altre è molto determinata e ha delle idee ben precise che vuole far capire a suo padre il sultano. E' anche una ragazza molto romantica infatti quando incontra Aladin desidera scoprire il suo mondo e vivere in un amore magico. Nel camerino mi piace tenere le cose che mi fanno sentire a casa. Attorno allo specchio ho attaccato i bigliettini ricevuti durante lo spettacolo dai miei amici, dai miei colleghi e dai miei genitori. Ho anche due bamboline di Jasmine a cui tengo tantissimo. Una regalata dall'aiuto regista il giorno della prima e un'altra invece realizzata interamente a mano da una mia fan. Loro ecco sono una parte speciale, mi fanno tantissime tantissimi regali e mi emoziono veramente molto perché sono dei gesti bellissimi e ricchi di amore, soprattutto quelli fatti a mano. Sono veramente fortunata ad avere loro, sono splendide. Quando mi chiamarono per dirmi che ero stata scelta ho avuto un secondo di shock, non ci credevo. Ero super emozionata perché per me sarebbe stata un'esperienza completamente nuova. Non vedevo l'ora di iniziare, di sentire le canzoni, leggere il copione e conoscere il resto della compagnia. Devo dire che la realtà ha superato decisamente le mie aspettative. Infine mi vesto. Ho quattro cammi nello spettacolo e li adoro tutti. I vestiti sono super luccicanti, pieni di ricami e di veli. Il mio preferito forse è quello turchese. Adoro quel colore. Mi ricordo il primo giorno che siamo entrati in teatro per vedere le scenografie. Ero rimasta senza parole. Credetemi, è una grande emozione ogni sera poter interpretare la principessa Isha e vivere momenti magici volando sul tappeto con Aladin. Faccio è amore per noi.